Idee di business, avviare un e-commerce. Oggi voglio parlare di questo argomento perché vedo tante persone che nella loro testa si immaginano un e-commerce come la svolta, la possibilità di poter lavorare da casa senza più doversi sbattere, magari di uscire per fare un lavoro tradizionale, quando in realtà questo modo di pensare è assolutamente pericoloso perché manca di alcuni aspetti fondamentali che qualunque business deve considerare. Dobbiamo ottenere a mente la cosa fondamentale, la prima cosa, ovvero che l'e-commerce non è altro che un mezzo attraverso il quale vendere determinati prodotti, quindi lo dobbiamo considerare proprio come un canale. Quello che però dobbiamo ottenere assolutamente a mente è questo, nel momento in cui noi apriamo un e-commerce nessuno, e ripeto, nessuno conoscerà la sua esistenza e nessuno andrà a visitarlo. Di conseguenza prendere dei prodotti, metterli su un proprio e-commerce che magari costato anche migliaia di euro per essere stato sviluppato, ecco, non significa assolutamente nulla. Se dovessi fare un paragone abbastanza forte, ma rende bene l'idea, è come aprire un ristorante ma tenerlo chiuso. Perfetto, qual è l'utilità? Assolutamente zero, nessuna. Le due cose fondamentali che dobbiamo ottenere a mente sono, la prima, i nostri clienti o potenziali clienti o sconosciuti devono venire a conoscenza del fatto che abbiamo un e-commerce, quindi esista il nostro e-commerce e c'è in vendita qualcosa. E questo è il primo aspetto e per farlo solitamente è necessario investire soldoni in pubblicità. La seconda cosa, il secondo aspetto fondamentale è quello che dobbiamo tenere a mente il fatto che se ciò che noi vediamo nel nostro e-commerce è anche reperibile altrove, difficilmente le persone acquistaranno da noi. Perché? Immaginiamo di vendere un evidenziatore come questo. Perfetto, da noi costa un euro e anche su Amazon costa un euro. A tuo avviso, dove comprerà la gente, le persone dove preferiranno acquistare? Al 100%, senza nessuna esclusione, preferiranno Amazon, principalmente per due motivi. La prima è che la spedizione di Amazon è più veloce, la seconda è che si fidano, perché tu sei un e-commerce sconosciuto, non sanno chi sei, mentre Amazon è una potenza, sanno che comprandoli sono tutelati e garantiti al 100%, quindi la scelta ricadrà sempre su Amazon. E quindi andiamo ad affrontare il problema vero, cioè cosa vendiamo noi sul nostro e-commerce? Perché la differenza è questa. L'e-commerce, come dicevo, è un canale, è un mezzo, ma ciò che fa veramente la differenza è quello che noi andiamo a vendere. Quindi se vendiamo un qualcosa che può essere comprato anche in altri posti, allora assolutamente lo sconsiglio, perché non ha veramente senso. Ci possiamo addirittura trovare in una situazione nella quale noi facciamo pubblicità per il nostro prodotto, le persone finiscono nel nostro e-commerce, vedono un determinato prodotto, vanno su Amazon, lo cercano, si accorgono che costa meno o costo uguale, o magari in alcuni casi anche leggermente di più, in ogni caso si fidano molto più di Amazon, sono già abituati a comprare lì e fanno l'acquisto su Amazon. E cosa è successo? Che tu hai speso soldi in pubblicità per far andare i clienti su Amazon e questo è veramente deleterio. Quindi l'unico modo per poter competere e per avere un e-commerce sensato è quello di avere dei prodotti unici, esclusivi, che non si trovano altrove. Questa è la vera chiave, perché nel momento che nel mio e-commerce vendo un qualcosa che non è reperibile altrove, la scelta del cliente è molto semplice. O compra da te sul tuo e-commerce oppure non può effettuare l'acquisto. In quel caso può avere un senso. Certo che al giorno oggi, valutando quanto costa il traffico e la concorrenza spietata che ci troviamo ad affrontare è veramente veramente dura. Quindi quando sento qualcuno che si vuole lanciare nel mercato con un e-commerce, gli dico sempre di prestare attenzione a queste due cose. Devi vendere qualcosa che nessuno ha e di considerare l'e-commerce solo come un mezzo. Il fatto che tu abbia l'e-commerce non significa che la gente vada in automatico a vederlo, anzi, sappi che resterà veramente deserto senza nemmeno una visita. Quindi dovrai spendere soldi per portare la gente all'interno del tuo e-commerce. E questo è un fattore da tenere assolutamente a mente perché le persone non fanno questo ragionamento ma pensano semplicemente a aprire l'e-commerce e in automatico le persone andranno a visitarlo e quindi venderò assolutamente oggi e tutt'altro. Con questo è tutto. Prestaci molta attenzione la prossima volta che puoi aprire un e-commerce e se hai un prodotto veramente unico, un qualcosa che nessun altro fa, allora prendi in considerazione la cosa ma allo stesso tempo ha valuto anche l'idea di costruire un brand forte all'interno di un singolo prodotto e quindi venderlo online. Ma questo non significa avere un e-commerce, semplicemente significa avere un sito che permette l'acquisto di un prodotto o più prodotti. Ovvio che se i prodotti sono tanti, allora quello di cui abbiamo bisogno effettivamente sarà un e-commerce. Con questo è tutto. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, fatti questa domanda se hai intenzione di aprire un e-commerce. Nell'ultimo anno, su quanti e-commerce sei andato e quanti acquisti hai fatto? La maggior parte delle persone a questa domanda risponde zero, perché gli acquisti vengono fatti sempre da quei due o tre siti di fiducia e nessun altro. Quindi sì, si compra su Amazon, escludi quello, escludi altri due o tre siti appunto che sono i tuoi punti di riferimento e ti accorgerai che un acquisto fatto su un sito che non conoscevi è una cosa che probabilmente non hai mai fatto. Per cui riflettaci attentamente. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!